La momia del frate murata nelle pareti di Santa Maria Nuova venuta alla luce in seguito ai lavori nell'area dell'ex convento dei frati minori che quest'estate ha galvanizzato l'interesse dei fanesi verso la sconosciuta figura di questo beato fanese torna a far parlare di sé. Dopo alcuni mesi dall'apertura della cassa che conteneva le mortali spoglie del frate ed appurata la sua identità attraverso una targa esterna che ne ricordava nome e data di morte vengono svelati a conclusione dell'iter giudiziario della vicenda i particolari della sua identificazione avvenuta alla presenza delle autorità cittadine e degli inquirenti nel cimitero dell'Olivo. Questa mattina sono state divulgate le immagini della mubia rimasta in perfetto stato di conservazione data l'assenza di umidità nell'intercapedine vestita del saio nel quale fu avvolto negli anni 50 a seguito del suo spostamento dal tabernacono dell'altare laterale di Sant'Antonio per i lavori di ristrutturazione della chiesa. Padre Campana ministro provinciale dei frati minori ci spiega che in base ai regolamenti della chiesa cattolica vigenti già allora non fu più possibile ricollocarlo in chiesa in quanto il frate è beato ma solo in seno ai frati e non è stato mai avviato alcun processo di beatificazione canonico che permetterebbe sì di venerarne il culto in chiesa. L'occasione quindi per scoprire la figura e l'occasione anche per cominciare a ritornare a venerarlo a pregarlo e chi lo sa che da questa preghiera da questa venerazione non ne venga anche qualche dono cioè nel senso che si possa avere anche una beatificazione ufficiale nella chiesa. Ora con tutta probabilità non essendoci in piedi processi di beatificazione a conclusione dei lavori attuali probabilmente nel gennaio del 2021 la mummia del frate verrà ricollocata in quella che sembra essere la sua naturale collocazione ovvero dove è stato rinvenuto tra la chiesa e i locali del convento con una targa però in chiesa che ne ricorda la sua presenza. Nel frattempo i resti mortali si trovano all'eremo dei frati di Valleremita dove viene pregato due volte al giorno dai confratelli in attesa del da farsi. Che il beato Antonio però non fosse un frate comune lo dice il fatto che fosse il confessore di Alfonso d'Aragona e che i fanesi del tempo erano molto devoti alla sua figura. Ecco perché beato e dallo stato della mummia si possono intuire alcune cose che vivesse certamente in uno stato di benessere e in buon stato di salute e che avesse all'epoca del suo decesso nel 1500 un'età sicuramente oltre i 40 anni. Il comune ora farà di tutto per valorizzare questa importante figura. E quindi speriamo che possa essere come dire oggi messa anche un altro tassello di una storia importante della città di Fano che gravita intorno a Santa Maria Nuova.